buongiorno buongiorno con le stelle io sono monica amarillis e questa è la mia rubrica astrologica per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato scrivi a info chiocciola monica amarillis.com buon venerdì 3 giugno 2022 oggi partiamo con la luna ancora nel segno del cancro ma poi la luna entrerà nel leone alle 20 e 38 quindi la maggior parte della giornata in realtà sarà ancora all'insegna delle energie cancerine ma oggi è anche la giornata in cui mercurio riprende il suo moto diretto alle 10 del mattino quindi sicuramente dal punto di vista della comunicazione delle relazioni con gli altri degli scambi forse le cose cominceranno a muoversi un pochino più velocemente mercurio è ancora in toro è in questo momento sul ventiseiesimo grado del toro quindi continua a fare il buon aspetto con plutone questo aspetto che fa approfondire le situazioni riesce a far cogliere l'essenza di una situazione approfondisce l'intelligenza ovviamente non di tutti ma di chi ha dei valori degli aspetti delle dei pianeti negli ultimi gradi dei segni di terra e dei segni d'acqua nella giornata di oggi la luna farà dei begli aspetti in particolare un trigono a nettuno e un sestile a mercurio quindi altri aspetti molto positivi per quanto riguarda la vita intima spirituale soprattutto ma anche quella relazionale e comunicativa e poi prima di uscire dal segno la luna farà un'opposizione con plutone ebbene questo invece è un aspetto che può rendere un inquieti può rendere più che nervosi un po ansiosi ansiosi quindi soprattutto nelle ore precedenti l'uscita della luna dal cancro e questo aspetto influenzerà soprattutto chi è nato alla fine di cancro capricorno bilancia e ariete la luna in cancro avrà soprattutto buoni effetti buoni influssi su tutti i nati nei segni d'acqua e quindi lo stesso cancro scorpione e pesci ma anche sui segni di terra quindi toro capricorno e vergine dal momento in cui entra nel segno del leone quindi dopo le 8 40 di stasera la luna invece rivitalizzerà a livello emotivo a livello di vita interiore a livello di vita istintiva soprattutto i segni di fuoco quindi ariete leone sagittario ma anche i segni d'aria e in particolare bilancia e gemelli forse siete tutti a fare il ponte del 2 giugno visto che ieri è stata festa e domani comincia il weekend comunque la luna in questa posizione ci indica le attività consigliate diciamo consigliabili per i vari segni in questa giornata quindi cominciamo con la riete il nostro segno di fuoco cardinale che probabilmente sta programmando i suoi prossimi passi sia sul lavoro che magari come formazione superiore magari tornare a fare dei corsi tornare a studiare qualcosa proprio per migliorare le proprie competenze oppure può semplicemente pensare di andare a fare un bel viaggio quest'estate per il toro il consiglio della luna oggi è di pensare alla carriera anche se magari state facendo il vostro ponte ebbene pensate alle prossime mosse da fare per la carriera per la vostra indipendenza per una maggiore indipendenza economica e lavorativa cari tori i gemelli non perdono occasione di divertirsi di festeggiare e quindi probabilmente avranno anche colto l'occasione del ponte ebbene in effetti questa è un'attività molto in sintonia con i gemelli in generale ma soprattutto per questa giornata è di dedicarsi agli amici alle amicizie quindi ricontattate e chi magari non sentite da tempo o comunque organizzate delle attività in compagnia e questo sarà il modo migliore di trascorrere la giornata oggi il cancro invece che spesso si richiude si ritira un po nel proprio rifugio nel proprio nido ebbene con questa giornata potrebbe in effetti avere bisogno di spazi interiori spazi di silenzio quindi attività in solitudine per riflettere potrebbe essere anche leggersi un bel libro oppure meditare il leone invece anche prima dell'effettiva entrata della luna nel suo segno comincia a sentire che cambia qualcosa l'energia più frizzante ebbene il leone potrebbe essere particolarmente concentrato su di sé magari in un'autoanalisi che è un'ottima idea per il leone visto che in questo periodo ci sono stati tanti alti e bassi tanti momenti difficili e quindi è giusto anche concentrarsi sull'analizzare che cosa è giusto fare che cosa si è sbagliato che cosa si è fatto in modo corretto per la vergine oggi una giornata da dedicare a sé al proprio benessere al proprio corpo la vergine tiene molto alla salute all'efficienza del corpo ebbene questa giornata potrebbe essere proprio l'ideale da trascorrere in una spa magari concedendosi un massaggio un peeling delle cure di bellezza questo è un'ottima attività consigliata dalla luna meglio che non dedicarsi sempre e solo a fare i conti a vedere se tornano care vergini e la bilancia invece oggi si sente particolarmente aperta anche la bilancia comincia a sentire che la luna sta per cambiare e la posizione della luna in leone sicuramente molto più consona alla bilancia e anche per la bilancia oggi ci potrebbe essere una gran voglia di aprirsi di connettersi agli altri di vedere persone conoscere gente nuova interessarsi agli altri questa è un'ottima attività per la bilancia oggi lo scorpione invece sarà bene che sfrutti le ultime ore della luna in cancro che è una posizione sicuramente più ottimale per lo scorpione rispetto alla luna in leone e oggi però potrebbe anche aver voglia di casa di famiglia di rimanere un po nel proprio focolare nel proprio nido cosa abbastanza insolita per lo scorpione che è sempre abbastanza avventuroso però siccome le cose non girano benissimo perlomeno i pianeti non sono molto incoraggianti in questo momento per lo scorpione ebbene forse gli individui di questo segno potrebbero sentire la necessità di tenere un po le energie a freno e ricaricarsi in un ambiente familiare tutto il contrario per il sagittario che invece potrebbe avere voglia di spazi aperti di sport di uscite nella natura di viaggi di attività insomma molto dinamiche come è un po nella natura del sagittario del resto e quindi è bene che segua il proprio impulso e la propria natura così libera e aperta e arriviamo al capricorno che invece oggi potrebbe avere voglia di rivedere un po delle proprie abitudini capricorno può essere molto meticoloso ed è soprattutto molto determinato molto deciso per cui quando decide una cosa la applica dopo avere pensato riflettuto sufficientemente sulle sue possibilità di avere successo in quella cosa ebbene la applica e quindi oggi forse i capricorni potrebbero spendere bene la giornata nel valutare nuove abitudini possibilmente salutari da acquisire arriviamo all'acquario e l'acquario segno d'aria quindi molto indirizzato verso la comunicazione il collegamento con gli altri ebbene sì anche per l'acquario oggi è bene seguire la propria natura che è quello di mettersi in contatto in comunicazione con gli altri ma soprattutto farà bene a dedicarsi alla propria metà alla persona del cuore insomma se non c'è ovviamente alle persone care della propria vita però se siete in coppia cari acquari ebbene dedicatevi a migliorare la comunicazione e migliorare la relazione proprio con il vostro partner ed eccoci all'ultimo segno i pesci segno d'acqua che oggi potrebbero essere attratti dai grandi dilemmi dell'esistenza da grandi elucubrazioni dallo scoprire piccoli e grandi misteri e riusciranno bene in questa attività quindi potranno accedere alle loro risorse interiori sappiamo che i pesci sono a volte capaci di grandi intuizioni veramente molto precise sono quasi dei medium in certi casi in certe occasioni ebbene oggi è una giornata di quelle in cui vi arriveranno probabilmente degli input interessanti non si sa da dove dal vostro interno dal vostro dal vostro sé dal inconscio ma sarà bene dare ascolto a queste voci interne a questi input ebbene abbiamo finito la nostra rassegna zodiacale per oggi e ci aspettano comunque novità domani con la luna in leone e per oggi vorrei continuare a esaminare la serie sole ascendente le combinazioni quindi tra il sole ascendente in particolare tra il sole in gemelli e i vari ascendenti abbiamo esaminato l'ascendente ariete l'ascendente toro e adesso tocca al gemelli ascendente gemelli ogni volta che l'ascendente è lo stesso del segno del sole la nascita avviene all'alba ovviamente d'estate avverrà in orari molto mattinieri rispetto alle nascite invernali in cui magari l'alba le sette sette e mezza e invece per questa combinazione in particolare il ascendente gemelli è tale per i gemelli se la nascita avviene all'incirca tra le cinque le sei e mezza del mattino se che possono essere anche 6 e 46 45 ovviamente qui abbiamo una amplificazione un rafforzamento delle caratteristiche del segno ma molto diversa è la questione se il sole si trova nella prima casa o nella dodicesima casa perché il sole con le nascite all'alba e quindi con l'ascendente nello stesso segno del sole ebbene il sole può essere prima o dopo l'ascendente e quindi se sopra l'ascendente sarà nella dodicesima casa se sotto l'ascendente sarà nella prima casa questo è molto diverso perché i soli nella prima casa danno un carattere più egocentrico un pochino più narcisista più concentrato su di sé un po come guardatemi tutti come sono bravo come sono bello eccetera mentre il sole in dodicesima casa presenta sempre una sfumatura di introversione una capacità e anche a volte una volontà di stare soli di essere in connessione con qualcosa che può essere di superiore di più ampio rispetto all'individuo rispetto all'ego insomma c'è una maggiore tendenza verso la spiritualità con il sole in dodicesima casa per il resto ovviamente le tendenze del segno sono rafforzate quindi la comunicazione la voglia di mettersi in connessione con gli altri il bisogno quasi di stare insieme agli altri a volte a meno che non si abbia il sole in dodicesima casa non si il gemelli non ama star da solo invece vuole parlare parlare vuole comunicare curioso vuole imparare sempre nuove cose si interessa un po a tutto magari in modo superficiale però riesce a fare tante connessioni mettere in collegamento tante idee tanti concetti diversi e a volte riuscire anche a fare delle sintesi oddio la sintesi è anche il dono del segno opposto il sagittario il gemelli a volte si perde un po nei particolari è un po il il difetto dei segni mercuriali cioè appunto i gemelli e la vergine di solito però c'è un attenzione alle sfumature ai dettagli a tutto ciò che avviene intorno quindi il gemelli ascendente gemelli ancora di più è quello che registra tutto quello che succede è insomma il tipico giornalista è infatti una delle professioni più in sintonia con il gemelli il giornalismo la cronaca le pubbliche relazioni queste sono un po le qualità che ha il gemelli in particolare quindi con l'ascendente nel segno tutte queste qualità saranno a maggior ragione rafforzate il rischio è di essere un po troppo appunto soprattutto se il sole in prima casa un pochino troppo invadenti rispetto agli altri perché si parla sempre non si ci si rende conto che a volte l'altra persona ha bisogno di riposarsi un attimo ebbene con questo vi saluto e vi do appuntamento a domani come sempre e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info chiocciola monica amarillis.com